Si continua a lavorare in casa Avellino, le prossime 48-72 ore saranno decisive per l'arrivo di un nuovo portiere bianco-verde. Nel frattempo Forte ha rifiutato Taranto, ma su di lui ci sarebbero altri due club di Serie C. Restano in piedi i tre profili, due over e un under, al vaglio di Mr. Taurino e Mr. Pagotto. In difesa le uscite di Scogna Miglio, Silvestri e Sbraga corrisponderanno gli arrivi di altri tre difensori centrali, due over e un under. A centrocampo, dopo l'arrivo di Garetto e Franco e la certa conferma di Matera, unitamente alle partenze di Carriero e Aloi prossimi a definire le loro future destinazioni, arriverà un altro over di categoria. Per quanto riguarda le fasce, Ricciardi sostituirà Ciancio con Rizzo che resterà e potrà mettersi in mostra in quello che potrebbe essere l'anno della consacrazione, mentre a sinistra Mikoski sarà affiancato da un profilo under, ricoprendo le caselle che saranno lasciate vacanti da Tito e Mignanelli. In attacco su Maniero c'è il forte interesse del Monopoli e della Turris, mentre su Plescia, oltre al Cerignolo neopromosso, ci sono diverse società, anche di altri gironi, che hanno sondato il terreno per il prestito del centravanti classe 98. In ritiro gli attaccanti saranno Murano e Bernardotto, sul quale De Vito e Taurino vorrebbero puntare, e arriverà un'altra punta centrale. Uno o due arrivi potrebbero ancora esserci nella batteria di esterni d'attacco, che sarà composta già da Di Gaudio, Canutè e Guadagni. Grazie. Grazie.